Lo stendevo da tanto, finalmente è arrivato, siamo stati molto bravi a muovere la palla sul calcio d'angolo facendo gioco a tre e poi Angelo, che ringrazio, ha messo un bel cross. A inizio anno eravamo un po' più solidi secondo me, dopo forse in base all'equilibrio, abbiamo perso un po' di equilibrio e siamo allungati forse un po' con i reparti e abbiamo iniziato a subire un po' più di gol. Però ovviamente quando fai gol è merito di tutti, quando non prendi gol è merito di tutti, perché la fase difensiva, il primo che la fa è l'attaccante e dopo man mano tutti. Penso che l'inesperienza può essere sia le prime partite, ma dopo nella lunga diventi una squadra con un po' più di esperienza e quindi non dovrebbe essere quello il problema. So che loro giocano 4-3-3, sono partiti molto bene all'inizio del campionato, dopo hanno avuto un lieve calo e adesso l'ultima partita hanno vinto all'ultimo minuto, quindi avranno un po' di entusiasmo. Altrittanto ne avrà il terro. Ovviamente, e cercheremo di portarla a casa. Grazie a tutti.